nooo non siamo scesi io ho dato via ma guarda dove è ma dove e vabbè è mattelaga è mattelaga è la fine è la fine ma se è suo ancora tutti i due 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 sto mangiando all'infinito sento beccia 8 8 8 non riesco non è vero ma non è vero posto la gang vabbè anch'io ti vedo la gare guarda ora è fermo guarda ora è fermo ma muovi fi mike e muovi fi ma io sono già detto nel tutto ma mattino e che roba brutta roba la brutta vedo mai che da brutta non mi sai che tu ne sai la droga ne capito la gare troppo perchè no io a te no è nell'amor pietro che cazzo vuoi e vabbè pietro dio pietro 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 mike mike esiste questa morte no è soffocato dentro un muro no ma come no ma aspetta sto morendo eh ora se ne accorge ora se ne accorge se sei ore dopo matte 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 ma come ho fatto a morire no è che sta laggando matte si è soffocato dentro un muro non credo che si stesse stavate ma no mike mike a voi si te la riprendo davide dicevo perchè hai fatto no pietro pietro tu l'alti tu l'alti pietro oh scusate è la mia montagna faccio che che cazzo mi pare no ma voi non potete capire cosa stanno udendo le mie orecchie da elfo come è morto pietro scusate è tornato anche mike mike ma io ti chiamavo e non mi rispondevi eh mi ero mutato un gioco perchè perchè si no tu non puoi pietro che è morto tu non puoi capire cosa cazzo è successo tu non puoi capire cosa cazzo è successo cazzo è successo pietro laggando è andato sottoterra ed è soffocato ah si è soffocato bene e pietro se ne accorto tipo due minuti dopo che era morto bene ebbene ci sei? ah ecco ti qua io si ma vedo la gare troppo ah tu vi vedo la gare no no così non si può continuare no così non si può continuare io ve lo dico no non si può andare in miniera no torniamo su è meglio se si scappa così è meglio di noi matte ma io mi devo col giardinaggio matte non risponde sta laggando palesemente e ora crasha male eccoci madonna mia matte e si incomincia oh ragazzi se non ha salvato quella volta abbiamo scritto che abbiamo arrestato non vado siamo sempre al capo oh no le scale di matte se non ha salvato no no quella è la cosa che si se mai riparte da quando è uscito quindi se riparte da quando è uscito io rispondo no no non è successo nulla il mondo c'è ragazzi è detto qui ok ecco immagina se succedete la stessa cosa sai che successe in this server cosa sta succedendo io vedo il mondo io vedo il mondo se succedesse se succedesse vedo una figura lontana da me in tutto il mondo devi fare 60 copie te l'ho detto rega ho paura sono nella miniera e vedo le stelle anch'io mike anch'io ragazzi sono della galassia aiuto le stelle le stelle le stelle aiuto 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 no 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 lava lava no che cosa sta succedendo che cosa sta succedendo che cosa sta succedendo fate la clip che cosa sta succedendo che cosa sta succedendo